Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Richie Camera 89 Siamo tornati qua Forse in una nuova possibile serie World True Ma non lo posso sapere perché voglio sapere voi che cosa ne pensate E se vi piace vederla sul nostro canale Allora vi porto direttamente su PS4 per me, per voi Insomma stiamo parlando di The Avengers Vi dico già da subito Io sicuramente sarò sempre il tipo di persona che si lamenta un attimo Stavo vedendo se era giusta Vedi che c'è un pezzettino che esce fuori Sistemo questa cosa qua Ho sistemato Dicevo, sicuramente io sono il solito lamentone Nel senso che io già vi dico che i personaggi non sono quelli veramente reali Della saga Avengers, quella al cinema E Iron Man, che non sia Tony Stark Che non sia Donnie Barrett Jr. Già a me Me triggerà violentemente Anche perché io penso che se Dronnie Barrett Jr. non faccia più Iron Man Per me Iron Man deve rimanere sempre Con la visiera chiusa Perché sennò non è Iron Man Allora signori Andiamocene su Campagna Andiamo a fare modalità normale Per chi è un spazio di commettimento bilanciata Per chi cerca un'esperienza Per chi non ha pure affrontare sfida Attacco di vita di nemici Mettaglia di attacchi di nemici Sono più difficili Non più stanti nemici Vabbè andiamoci su difficili Siamo insomma primizie Per quanto riguardano Adesso io spero che l'audio sia tutto settato Nel modo corretto Che il video si veda in maniera egregia E spettacolare Ha un audio comunque molto alto Io ve lo dico Un po' alto Ho messo leggermente più basso Leggermente Poi vedrò Lei non mi piace Ragazzi mi dispiace Ma Lei non mi piace Cioè Quella che si allunga Non me Questa antipatica Magari questa simpatica dopo Non mi piace Lei Si vede il ponte Abu guarda Era ora I sedili non si inclinano È bellissimo Perché lo chiamano Golden Gate Bridge Se non è dorato Ci sono così tanti bambini Scommetto che le loro storie sono incredibili Competizione Serve a renderci più forti Se metto start Secondo voi va in pausa O zoppiamo Perché io vi voglio Se non fosse adatta Deve essere perfetta Capisci Quando sei nata Dissero che avevi degli occhi da triglia Comunque Mentre loro parlano Credo che sia La storia Classica Di una bambina Che vuole fare La fumettista Sta facendo un contest Con altri Dico eh Sta facendo un contest Con altri Succederà qualche cosa Che la trasformerà Guarda caso Proprio a lei In uno dei nuovi Avengers E il vincitore Per la miglior fanfiction Di sempre è Avengers Contro le lucertole malvagie Delle fogne Di Kamala Khan E la folla Comincia a esultare Questo è lo spirito Ma che tu vinca Lei non è che Che non mi stia Antipa Cioè che non mi stia simpatica Non mi piace il personaggio Che gli hanno fatto Perché se la facevano Che scureggiava Raggi Solari A me piaceva De più Però Non mi piace Il potere Dei Dei Fantastici 4 Non mi piace Cioè poi è tipico Di lui Insomma Dunque Ragazzi Vi giuro Ha un audio Fuori di senso Giustamente Il primo episodio Sapete Sono tutte cazzine Wow È incredibile Le cazzine Sono fatte bene Le cazzine Sono fatte bene Peccato che Secondo me La 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 playstation Non è mai stata All'altezza Ultimamente Per Per tantissime cose Secondo me Abbasso un po' Ragazzi E rialzo un po' Qui a voi Perché se no io Mi stucco la testa Però mi piace Sembrerebbe essere Ottimizzato al massimo Sì ma Non ho capito Ma chiuso La porta in faccia Vengo premuto Ciao finalista Posso chiedere il tuo nome Ma si immaginava Che era un contest E questo è il mio papà Yusuf I can Ottimo Provate la nostra caccia al fumetto Se li recuperate tutti e cinque Potrete accedere alla balconata VIP Quando li avrete tutti Passate il vostro telefono davanti all'ascensore E potrete salire Divertitevi Non hai già abbastanza fumetti? Ma La balconata VIP Devo farlo Cioè fatemi capire Oltre ad aver acquistato Su Instant Gaming E avete fatto un abbonamento Io vi ringrazio Adesso Devo fare la sottomissione Di andare a prendere Cinque fumetti in giro Allora praticamente Praticamente È un È un tutorial Ho capito che probabilmente Ci saranno Le cutscene Le cutscene A me piacciono un botto Piacciano un botto E Ci fanno vedere più o meno Sembra che dovrò giocare Se voglio uno di quei fumetti Ok sensibilità è Bassissima Però Capito Non è che vi posso far vedere Mannaccia La miseriaccia Vabbè Ve lo posso anche togliere Questo pezzo Che dite Non mi fa mettere start Cioè Penso che è gioco Fantastico Va bene ragazzi Godetemi questo momento Sto facendo Mamma mia La sensibilità è No Ho già questo numero Mi serve quello di Captain America Per completare la serie Aspetta Se trovi dei doppioni Vuoi fare cambio? Certo Figo Ci vediamo dopo Ok Oh cavolo Ok Ne vorrei anche io Uno Due Ma che atrocità è mai questa Che poi alla fine Thor ci assomiglia anche Per dire Vi devo dire Adesso la storia sta prendendo Già una piega diversa Mark 3 Il primo amore di Tony Stark Per la barba di Odino Fa paura quasi quanto il suo proprietario Sei simpatico Sì lo so Ammira Una vera arma Che non necessita di migliorie Che impugnerà questo martello Se sarà Degno Degna Possiederà il potere di Thor Esatto La differenza tra i giocattoli di Stark E La potenza di un dio Sì Può darsi Ma Un eroe dovrà pur iniziare No? Giusto? Sì Sì certo Sei davvero molto saggia Per essere così giovane Grazie Anche tu Lei è carina L'audio ha fatto bene Sono doppiati bene Le voci per il momento Mi piacciono Quindi Non ero partito Molto fiducioso Su questo gioco Eh Il dio del tuono Troppo Figo Fumetti Premio Concentrati Ok Quindi andiamo Capitano America Suopriamo under Q Quindi dobbiamo sicuramente Fare altre cose Dai Togliete Vesù Ve faccio vedere Ste cose Perché Vedi perché Sembra che C'hanno le Ok 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 Io non ho Io non ho capito Come faccio a prendere i doppioni Trova un fumetto doppione Cioè 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 Praticamente Lo rubiamo Free comics Ah no No Ho capito Ma lei E' la E' la E' quella E' quella E' quella del film Che lei rimane dietro E li aiuta Però non hanno Pragato i diritti Per lei Sono abbastanza Sicuro Non lo so Magari mi sbaglio Però Dai che ha fatto pure I seri tv Oddio Mi sento male Questo è Bruce Ma certo Lo so Che cosa c'è Niente Solo Che stiamo ricevendo Strane Rilevazioni Cioè Se questo è Hulk Mi sento male E perché non è lui Forse Non è lui Troppo presto Per annunciarlo in pubblico Credi che potremmo controllare Un'altra volta Non lo so Magari sbaglio Sì sì Certo Oh grazie Scusami tanto E che di Hulk Ad esempio Io non Non so Chi è il personaggio base Cioè sono il dottore Ma il nome Non lo so Ma ora torniamo All'evento principale Ok Sì sì ragazzi Però mi fate perdere Un po' Tutto di tempo Allora perché tanto Ah perché forse Devo fare l'interazione Eh certo Aspetta Preparativi del Dei va bene Oh no Eh Spostati Scusatemi Ehi Perché pensi Che non sia Una vera fan Anch'io Ho il diritto Di stare qui Ah il suo audio Molto bello Ma sparisci Ve lo faccio io Doppio io Questi sono problemi Che di solito Li consolano Quando la folla E la stampa E il mondo Ti dicono Di spostarti Tu piantati Come un albero Accanto al fiume Della verità E di a tutti No Spostatevi voi Cosa Non sai chi è Un vero fan Si Come ti pare Andiamo via Scusate Regà Non c'è il doppiaggio Che devo fare Sto sono dimenticati Di introdurre il doppiaggio Questo con la pace Lo metteranno Fanno Cazzo Michael Sto siamo dimenticati De Michael Pure lui Mi sto a sentire male Raga Mi sto a sentire male Mi sento male Non lo so Regà La tua storia Le malvagie lucertole Lucertole delle fogne Sì Sì A Torre è piaciuta molto Ha detto che hanno avuto Un problema semile ad Asgard Hai Hai letto la mia storia Tutte quante È incredibile Hey Cap Dobbiamo andare sul palco Tarton è impaziente Hai visto Torre Dovrebbe essere arrivato Io sì Sì Pochi minuti fa Era allo stand di Stark Però Probabilmente non è più lì Perché si è allontanato E lei chi è? Nat Permettimi di presentarti Una concorrente Lei è Kamala Khan Esperta di lucertole Malvagie delle fogne Oh Oh certo Quella cosa che mi hai fatto fare Col tombino Era niente male Non è nulla Rispetto al tuo scontro Con Madame Idra Quello era Forte Dobbiamo salire sul palco Devo dire In pochi minuti Sto cambiando idea Ci vediamo È strutturato molto bene Come gioco Era Capitan America E Black Widow Allora Muoio Allora Bella Fatalità Lei sta avendo il culo Di incontrare Tutti gli Avengers Uno per uno Capisco che è una fiera Che loro siano pagati lì Tipo O come si dice Quello su Netflix Che c'è stava sul cavolo Quella serie Che abbiamo credito Non credito Come si chiamava Quello là Che loro c'avevano i superpoteri Ma erano cattivi Ok Capisco no Che loro fanno quelle fiere Quindi loro devono stare lì Però Fate al caso A lei È stata di un grandissimo Grandissimo Botta di culo Forse posso scambiare questo numero Con quel bambino Bambino Con quel bambino Cioè lui è un bambino Per te A me sembra un adulto Fantastico Facciamo il cambio È stato un piacere Con quel bambino Io Va bene Ora che li ho tutti Potrò accedere alla balconata VIP Evviva Andiamo alla balconata VIP Vabbè lui è un bambino Invece lei è una donna Giustamente Io in una fiera del genere Potrei anche morire Ve lo dico Mi sotterrate da qualche parte Nello stand di Iron Man E io sono molto contento Quindi in realtà Mi ci sto un po' rivedendo No Tipo se Fossimo a Hogwarts Cose del genere Mi ci metti a me È qua Brucetta Mi sento male Mi sento male Non può essere Brucetta La chimera La chimera offrirà sicurezza Protezione degli Avengers E te lascio Combinati No raga Grazie No raga Alcuni No 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 Bruno non riuscirà A credere ai suoi occhi Ehi ehi ragazzina Sta attenta Ma lei scusa eh Stai attenta che Ma lei che colpa ne ha Quindi già abbiamo visto Che probabilmente Le qualche cosa Sì però Fatemelo premere Apriti sesamo Signori Supremi dei fumetti Merica Mi sto sentendo Brucetta Brucetta Una cosa Che fa su tiktok Vabbè Ma mi sto sbagliato io S'ho aperto da qualche parte O no Ok Ci sta Come il gioco ci sta Davvero Sono qui per festeggi E' il giorno più bello Della mia vita Prima Non sono lieto Beta Sss Che sta parlando Incredibili Che fanno apparire Noi eroi Molto più straordinari Di quanto siamo Secondo Vogliamo inaugurare Una nuova fonte Di energia pulita Chiamata Terra Mi dicono Che sia molto potente Per spiegarvi Come funziona L'uomo che l'ha scoperta Il dottor George Tarnak Grazie Capitano Rogers La chimera E' alimentata Da un nuovo minerale Il Terrigene Tre anni fa Ho trovato Una strana Roccia Sì Nella baia Di San Francisco Dopo ulteriori test E' risultato chiaro Che questo minerale Ciao San Francisco Città con splendida gente Buon cibo E Nel tuo parcheggio Beh su questo Chi sta lavorando Bella cosa Oh no Qualcosa non va Andiamo via da qui Vieni Non me lo fate Vedete Mi sta Brucetta Ma fa vero Mi sento male Mi sento male Mi sento male Sì Ovviamente Volevo recuperarsi Wow Qua è sì che si fa Molto più interessante Dobbiamo darci una mossa Io sarò da lì Dottor Prova ad aprire una strada Sul ponte Ok Via 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 Ci sono almeno Voi non siete degni A piacere mi piace Diciamo che ha i combattimenti E che bello E le Ah per schivare Ok Ha i movimenti di Batman Praticamente Bene Non so se ha L'autopuntamento Sapete che Per fare un attacco pesante Mandiamo costo Allora 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 Non mi ricordo Non mi ricordo Com'era per vita Mannaggia Ah ok Ho paura che il move set Sia molto limitato Abbiamo dei civili bloccati Dietro le barricate Ho capito State dietro di me Allora ci penso io Siamo noi A te Torno Con chi abbiamo a che fare Ok Si sono presentati Aspetta Quelle armi appartengono Allo shield Provo a contattare Ok Ok Cosa dire che Questo è Figo ma Io mi aspetto Che Thor Possa fare Molto di più Poi non so Penso che mi stiano facendo Del solletico Non ho ben capito Dovrei fargli Molto più male Essendo Thor Il dio del tuono Ma sicuramente Ce li faranno fare Più avanti Però Pure il rumore Del martello Non mi dà Sta grande potenza Sembra Tipo Buzz Spencer E Terence Hill L1 Che lo sarà Mostra raga Del guerriero Già Già mi piace Molto di più Questo Questo è quello Che fa per me Probabilmente Questo qua Serve per ricaricare Probabilmente Stai un attacco Caricato Ah ok Quindi Questa Non so che faccio Con Oh ragazzi Ma mi state rompendo Il culo Eh Non so io Ah però Mi ricarico la vita Ok Eh Dopo un po' Iron Man Mi potresti pure Dare una mano Bella a papà Però eh Non è finita Start Ok Ho appena ricevuto Conferma Stamattina hanno rubato Un convoglio Shield E' uno di quei Breaking Mazzutini Di fiori Che non leggo mai E dai Tony Sono in portanza Ok Automira Ce n'è poca Però pure Iron Man Ok Posso fare altro Che sparare Con questa cosa Ok Chi di voi Comparse Da film Di serie B Mi ha sparato Ok 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 Questo ci sta Ok Infatti Mi immaginavo Che questa qui Non potesse Essere molto Ok Ok Ma Iron Man È molto più forte Cioè Capito Io lo so Che devono fare un gioco Per carità Eh Però Ci sta Però Però Tra virgolette Molto più letali No Ripeto Ci sta Ok Questo è caricato Però potete essere forti Quanto vi pare Ragazzi Eh Il moveset Che secondo me Se lo facevano più come Spider-Man Era Era Ok 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 Succederla giù Tony No Niente È tutto perfetto Spero solo che non abbiano Niente Sto zitto Hanno dei carri pulsa Cap La nave non è pronta per volare Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza L'autopilota della chimera è inserito Servono rinforzi Rientriamo Negativo Proteggete il ponte Quelle armi non devono entrare in città Ricevuto Tocca a te Bruce Mamma mia Bruschetta Sì Che poi vabbè Però Bruschetta è uguale Così Bene Cioè Così Sì però Hulk Regà Una pizza Ti deve sdraia Hai capito Quello che vi voglio dire Cioè Secondo me L'hanno fatti un po' di bulucci Cioè Oh alla fine sono gli Avengers Non è che stiamo a parlare Di chip e chop Eh No Ok Ecco Ha distrutto un carro armato Con tre cazzotti Gli uomini Me li deve annientare Ok Ok Ah Questo può saltare dall'arbori Dalle cose Ma Ah Ah E sta zitta È solo dure Che me stai impastiti Due ore Ok Ok È forte Ma dovrebbe essere più facile Cioè Io faccio così Loro devono volare via Non possono resistere Cioè Va bene Alcune cose sono fantastiche Ok Ho usato l'abilità di Hulk Per sbaglio Ah ok Me l'ha ridata Dov'è il bestione verde? Lo vedo Hulk Scendo con il Queen Jack Per atterrare Eh vedi Ste cose Sono belle Quello che dicevo io No Le tue invenzioni sono pericolose Stark Ehi Quelle armi erano per i buoni Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento Concentratevi Ok Cap Cosa succede lassù? Non lo so Nat Un malfunzionamento del reattore Le rilevazioni sui monitor sono strane Pare che una fonte di calore ci attiri Nat distruggerà la città Ripeti Cap Non riesco a sentire Nat mi ricevi Ecco Se mi facevano più di queste Più di queste combo Era molto più bello il gameplay Ve lo garantisco Senti io sono fortissimi Loro poi non c'è un puntamento O comunque Lo so Vogliono rubare la chimera Non quello Non ho mai visto rilevazioni simili Cioè lui pure dovrebbe essere molto più Ok forse gli si carica Molto più velocemente Io non ho capito come si parla Io ragazzi ho dei problemi Ok Io col parare proprio Lui non è molto forte Rispetto agli altri È il più pippo secondo me Ok Ho capito Ammazza quanto è tosto questo E lo sto facendo Ah tengo premuto Va bene Sembra che non lo sto menando Ma Eh queste sono belle Più alla Batman Hai capito? Ok Quel reattore non si stabilizzerà La struttura molecolare del Terrigen Si sta scopponendo in un gas Qualche cosa là sotto Sta inviando energia al reattore Ed è straordinario Doc Ti richiamo Aia Però Vai Perfetto Ok ottimo che mi fa fare subito le Le mosse qua Avengers Mi sentite? Eh Avengers Così sì Così mi piace Però il move set È molto limitato Ve lo dico eh Molto limitato Il pastore Avengers Avengers Se mi sentite Il convoglio Trasporta una bomba A distruzione sonica Altamente letale Il piano dei nemici È di farla esplodere in città Precipitiamo Ve lo ripeto Abbiamo una bomba sonica Andate a recuperarla subito Corace Dove sei finito? Dove sei finito? Bomba sonica Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate Diamo un'occhiata Va bene Quella si chiama entrata Tusk Master Prendiamo il detonatore Se esplodesse Potrebbe sciogliere tutto Nel ratto di 20 km Beh Cosa stiamo aspettando? Tommy I cavi Io penserò Al pazzo con il detonatore Ok Le cazzine Mi piacciono un po' Quick time event Scusatemi Si chiamano Quick time event Aspetta un po' Che non li vedo Quindi non mi ricordavo Ragazzi Ricevo delle strane Rilevazioni sismiche Sonic Mi ganno Ricevuto Hai fame? Questo lo prendo io Sai Speravo di affrontarti Eh Via Via Io invece non ho mai ripensato a te Ok Quindi ma che devo fare Non cambierà No così Sappiate che io ho le pistole Che non devo caricarle Questo Meglio che lo sapete Bello Non so Non so Che meno Si sto sbagliando io Ok Eh Ma scendi dalla Ah ok ce l'ha Ok me l'hanno detto adesso Vabbè lui sta qua A prendersi pirci Ok E non so che devo alternarli Leggeri da pesanti Ma che modi di te Ok Non ce l'ho fatta Ok Ok me sta a dare delle botte Regà interessantissime Devo dire che Molto molto forte Si sei forte Ok R2 con attaccare attacchi Indicato blu o giallo Con il rampino di wind Mi devo aiutare il rampino Ok Beh ti devo dire Ah ok pensavo che mi togliesse da lì Invece no Ok ci sta Calcate stiamo giocando comunque Moderna difficile Lui non è male Come boss E caricamenti di playstation O di qualsiasi altra console Sono molto interessanti Aspettiamo Ok Sì ma questo io l'avevo capito Infatti vedi perché Fai così E usciamo da là Ok Deve essere frustrante Essere sempre un passo in chiesa Il tuo obiettivo è la chimera Vero? Cosa vorresti far? Venderla al miglior offerente Cerco qualcosa di molto più prezioso Dai dai Non voglio rovinarti la sorpresa Ok Quelle praticamente sono mine Non riesco a caricare la La ultra Perché lui è Ok Ok Non so se Ok Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi Ti arrendi? Non se ne parla Vabbè mi ha dato un cazzotto a tradimento Sì ma perché mi toglie? Ma cosa hanno portato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco E che questo puzza di diversivo Basta parlare Quindi? Codarda Che c'è? Non ti piacciono le sorprese? Giustamente lui non mi vede La prossima volta Prendi appunti migliori Avevi previsto anche questo? Pensavi di aver vinto Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno Romanov Il mondo si ricorderà di questo giorno Il giorno in cui i loro eroi Fallirono Che sta succedendo qui? La città collassa Madonna Maledizione Una trappola Steve puoi sentirmi? Vattene subito Beta Al diavolo No Bruschetta Cinque anni fa Gli Avengers presentarono una tecnologia Pericolosa e non testata Causando una quantità di danni Mai visti prima Il nostro amato Captain America È stato ucciso Durante il tentato furto Di questa tecnologia Migliaia di persone innocenti Sono morte E molte altre Portano ancora le cicatrici Di quello che oggi conosciamo Come A-Day Centinaia di malati Sono rimasti bloccati In strani bozzoli Per poi emergerne Con pericolosi Poteri sovrannaturali Senza alcuna cura La malattia si è diffusa In tutto il paese E mentre sia lo shield Che gli Avengers Promettevano di sistemare La situazione La testimonianza Del dottor Banner Ha messo la parola fine A un'era Voi cosiddetti eroi Avete trasformato San Francisco In una zona di quarantena Piena di gas infetto Avete creato Esseri malati e potenti Che seminano il caos Molti dormienti E non identificati Quindi le ripeto La domanda Dottor Banner Gli Avengers Sono un pericolo Per la società? Sì Dopo essere stati Dichiarati fuori legge Il gruppo di eroi Si sciolse In verità Molti di loro Se ne erano già andati Con la liquidazione Della Stark Industries Il dottor George Tarleton Una vittima degli avvenimenti Delle idei E fondatore Delle avanzate idee meccaniche Pensa che la scienza Sia la soluzione Ai problemi del paese Vorrei tanto sapere Cosa è successo Al capitano Rogers Ma non ero vicino Alla stanza del reattore Non ho risposte quindi Ma posso promettervi questo Io userò Questa mia seconda occasione Per rendervi Più sicuri L'IM Riuscirà a trovare Una cura Alla malattia Degli inumani Parole che saranno Di conforto Alle famiglie Distrutte dalla malattia Pecca forse Di arroganza Sono in molti A criticare l'IM La cosiddetta Resistenza Diventa ogni giorno Più numerosa Io sono Phil Sheldon In diretta Per l'anniversario Delle idei Ah è perché lei è cresciuta Riescono a vedere La rivoluzione Sotto i loro nasi Avanti Dove siete finiti Ci deve pur essere Un indizio Ma ciao Se riesce Indovinare Copia tutto quanto Contatto io Ora si ragiona Oh Un vecchio sito Stark Hai un attimo Per me Beta Sì Per il momento ci sta Come multiverso Non è male La partenza per il ritiro Della moschea È tra un paio di ore Puoi ancora raggiungere Le altre all'autobus Era oggi Kamala Abbiamo già discusso Il ritiro È una buona occasione Per tirarti fuori Da tutto questo Respirare Dell'aria nuova Ridere Nakia resterà Molto delusa Se non ci andrai Hai ragione Ci penserò Bene Molto bene Ci sarà il gelato Oh Meglio ancora Niente ragazzi Solo divertimento Ti voglio bene Né io di più Ma non capisci Ok Ok Dove eravamo Suggerimento Password Il primo amore Oh Oh Cosa Cosa Forza Kamala Ci puoi riuscire Eh Oh Giusto Cavoli Forza ragazzi Non ci credo Non può essere I am Iron Man No Io sono Iron Man Sì Copiare Copiare tutto Sì Ha benedetto L'ego smisurato Di Tony Stark Che succede No 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 Ah Bloccata Ma ho copiato qualcosa Lo so Vedrò al quartier generale Sì ho capito Ma non è che mi devi di per filo e per segno Tutto quello che succede Ho sollevato un bel vespaio Devo andare al quartier generale E scoprire cosa c'è su questa chiavetta Va Bene Così Io non so Come salvare Ma Non è questo il nostro problema Allora ragazzi miei Eh Vi do delle piccole conclusioni Forse affrettate su questo gioco Eh Ci può stare La 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 storia della ragazza mi piace Non è Originale Assolutamente Mi piacciono tante cose di questo titolo Altrettanto non me ne piacciono Ad esempio Il moveset Dei personaggi È Legnosissimo Ragazzi Cioè Era molto Meno legnoso Quel gioco che Avevamo giocato Tanti anni fa Quello di Di Roma Non mi ricordo come si chiamava Comunque lo trovate sul canale Era molto Meno legnoso Dovevano Attenersi secondo me Un po' A uno stile di gioco Un po' più La Batman Eh Ricco più di Quick time event Con moveset Un po' più So perfettamente che i giocatori I player da utilizzare Sono tanti Ma non per questo Mi devi risemplificare Un po' troppo tutto Ad esempio Va bene tutto Ma il cazzotto Che può dare Thor O la martellata O Hulk Con cazzotto Dovrebbero Spappolare Qualsiasi Persona Davanti ai nostri occhi Tant'è vero che Secondo me Dovano fare Più boss Più mini boss Come quello che abbiamo affrontato Del donatore Quello già è stato un pochino Più intrigante Ma manca un po' di moveset Secondo me Fatemi sapere Se vuote che lo continuo Sapete io non vi dico Cavolate Vi do le mie Opinioni Più Libere Possibili Ci sono tante cose Che mi piacciono Alcune Come ho detto Di meno Doppiaggi Mi piacciono Quando ci sono Ma vabbè Una svista Non dovrebbe capitare Ma c'è stata Signori fatemi sapere Che cosa ne pensate Pollicione in su Commentate Condite Se non siete iscritti Iscrivetevi A prossimo appuntamento A vostro Vi invito a lasciare like Bella